Oggi facciamo la carbonara. Ingredienti, spaghetti, guanciale, non la pancetta, guanciale, pecorino stagionato, parmigiano, 6 uova. Tagliamo il guanciale a cubetti. Senza olio o niente ci buttiamo il guanciale e iniziamo l'operazione. Vede che bellezza tutto il gasto sta sciogliendosi per fare la nostra cremina. A questo punto è una bella doratura. Levo la pancetta e lascio tutto il sughino. A questo punto mettiamo l'acqua per le nostre pastaciutine e facciamo una cremina di formaggio. Per la cremina di formaggio mettiamo 3 torli e 3 uova intere. Buttiamo la pasta. Buttiamo il parmigiano, il pecorino, l'acqua di cottura su questi formaggi. Ora iniziamo a fare la cremina. Abbiamo fatto questa consistenza, mettiamoci l'ovino. Qui c'è troppa roba. A questo punto aspettiamo che gli spaghetti siano cotti. A questo punto giriamo le paste nell'olio del grasso, della pancetta. Iniziamo la crema di uovo. La dice mangiami. E ora che ci votiamo? Eccola, eccola, guardate che bellezza. Provate a rifarla a casa. Intanto noi proviamo a mangiarla. Grazie. Grazie.